Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti al ristorante La Rusticana di Viserba. Siamo qui oggi per presentare la squadra che quest'anno parteciperà alla quarta edizione della Barcellona Professional Cup. A Barcellona ovviamente stiamo parlando della Giovanni Lerimini che appunto tra qualche giorno, dopo domani per esattezza, partirà in viaggio verso Barcellona per intraprendere questa avventura. Siamo qui ovviamente anche per elencarvi quello che faremo noi come Icaro Sport, la nostra emittente che appunto metterà su un vero e proprio reality perché seguiremo la nostra Giovanni Lerimini in tutto e per tutto, in ogni suo movimento, gli allenamenti, le partite, seguiremo il loro relax, i momenti di relax in albergo. Praticamente saremo il loro peggior incubo, pronti per non farci sfuggire nulla. Le partite ovviamente saranno il nostro punto di interesse, le trasmetteremo in integrale subito dopo la messa in onda del reality e ovviamente tutte le gare che verranno disputate dai ragazzi con interviste, insomma tutto quello che concerne il match. Per quanto riguarda la trasmissione, verrà messa in onda tutti i giorni, dal 3 giugno al 12 giugno, dalle 20.45, poi ovviamente al seguito del reality verrà trasmessa la partita quando sarà appunto giorno di partita. Ma adesso io chiamerei subito qui sul palco uno dei componenti più importanti della Giovanni Lerimini, colui che diciamo da cui tutto è partito, colui che sarà anche il mister di questa squadra e allora lo chiamerei qui sul palco Roberto Renzi. Eccolo qui Roberto. Ciao. Ciao. Allora Roberto, sta per partire tutto e siamo pronti per questa trasferta? Siamo pronti, ci mancano diciamo un paio di ragazzi che devo finire di valutarli ma diciamo che il 90% della squadra è fatta. Qual è l'obiettivo della Giovanni Lerimini per questo torneo? L'obiettivo prima di tutto è di far bene, di farci vedere e soprattutto di far vedere i ragazzi, i giocatori che abbiamo in organico. Come si stanno preparando i ragazzi alla partenza? I ragazzi sono abbastanza euforici, bisogna vedere poi che l'euforia non scaturi qualche cosa di negativo ma solitamente sono tutti i ragazzi quelli che ho scelto, secondo me sono tutti i ragazzi con la testa a posto quindi credo che parliamo di calcio e non di altro. E invece per quanto riguarda le sue aspettative nei confronti dei ragazzi si aspetta qualcosa in particolare? Innanzitutto mi aspetto che facciano una buona figura, mettono in pratica quello che molti di loro credo abbiano imparato in questo mese e mezzo di allenamenti. E poi credo onestamente di avere qualche ragazzo di sicuro interesse per cui spero e mi auguro come tutti gli anni che qualcosa succeda. Esatto, a proposito, come tutti gli anni, come ha sottolineato in questo momento, non è la prima volta che la squadra partecipa a questo torneo a Barcellona. Allora le chiedo come sono andate le precedenti edizioni, anche perché una volta è riuscita addirittura a vincere. Sì, l'anno scorso siamo arrivati secondi per differenza reti, ci è dispiaciuto però capita insomma. Gli arbitraggi fuori casa, soprattutto in Spagna, li subiamo però non ne farei mai una questione di arbitraggio ma diciamo che il livello del calcio che andiamo a proporre, giochiamo contro squadre di primissimo livello. E quindi le partite sono difficili, nel calcio ci sta che vinci, che perdi, ci stanno che i pareggi, ci stanno che le differenze reti. Il rigore è il 94-esimo, ci sta tutto. Ebbè certo, l'abbiamo visto anche nei play-off, nei play-out che tutto può accadere fino all'ultimo respiro. Per quanto riguarda invece le partite più interessanti che affronteranno i ragazzi, dato che comunque, come ha sottolineato, ci saranno squadre di un blasone non da poco. Giochiamo, diciamo, la prima partita è abbastanza bordabile, l'unica squadra non di rango che ci è capitata nel girone, che è il Coseccia. È una squadra, diciamo, abbastanza brava, sono dei ragazzi validi, ma non hanno, non ci creano problemi. Viceversa abbiamo il Belvigia, squadra di prima fascia in Spagna, abbiamo il Lagostera e soprattutto abbiamo giovedì 7 l'Espagnol. L'Espagnol è arrivato terzo in campionato quest'anno, quindi ha vinto il Barcellona davanti al Mallorca e quindi... Quindi non ha bisogno di descrizione? Non ha bisogno di presentazioni. L'ultima volta che abbiamo giocato con l'Espagnol nel secondo tempo ci è girato la testa, speriamo qualche volta che non capiti. Ovviamente avete capito che comunque il livello è altissimo di questo torneo, i ragazzi si stanno preparando sicuramente in maniera adeguata. Grazie Roberto, faccio fare un passo indietro così poi presentiamo i ragazzi a fianco a te. Per quanto riguarda invece il reality vi ricordo quindi tutti i giorni dal 3 al 12 giugno alle 20.45 su Icaro TV, canale 91. Poi comunque dalle 23 seguiranno tutte le repliche sia anche su Iurimini TV, il canale 211, quindi comunque non avrete scuse per non guardare il reality. Bene, allora adesso io comincerei con il presentare i ragazzi invece che affronteranno questa avventura. Partiamo dal portiere classe 97, Tiam Serigne. Vieni pure Tiram, ti faccio comandare qui a fianco. Ciao, piacere. Il nostro portiere per questa avventura, vieni pure a fianco a Roberto. Andiamo avanti con un esterno, classe 96, quest'anno ha giocato tra il Chieti e il Foligno in serie D. Lui è Arnold Aidini. Ecco Arnold. Ciao Arnold, piacere. Ed ecco Arnold. Andiamo avanti invece con un classe 1996. Lui invece è un esterno che ha giocato nella Dinamo Tirana. Lui è Toplana. Clydo. Ecco qui Toplana. Ciao, piacere mio. Poi ovviamente ci saranno dei ragazzi che non sono riusciti a venire qui questa sera, ve li elencherò alla fine. Andiamo avanti adesso con Umar Diop che è un fuoriguoto, un classe 1991. Per lui invece esperienza al Siracusa in Lega Pro. Eccolo qui. Ciao, piacere. Anche te, accomodati pure dietro di me. Andiamo avanti invece con Abdou Guille. Lui è un classe 1997, attaccante esterno del Corigliano. Ciao, piacere. Dobbiamo arrivarci in Spagna, quindi mi raccomando. Eccolo qui. Poi andiamo avanti invece con Andrea Renzi, classe 1992. Per lui quest'anno ha terminato la stagione a Bellaria. Ciao Andrea. Andiamo avanti invece con i ragazzi. Tocca adesso al centravanti, classe 1995, Andrea Montanari. Anche per lui. Ultima stagione a Bellaria. Ciao Andrea. Adesso è il turno di Seeker Arcadio. Invece lui è un classe 1998, una mezzala che quest'anno ha giocato in Serie D. Allora, piacere. Accomodati pure dietro. Ci state tutti in caso vi stringete. Andiamo avanti adesso invece con Aziz Niang, classe 1998. Lui invece è un esterno, vieni da Trento. Ciao, piacere. Dopo di lui c'è Marvel Odiki, classe 1998, una mezzala del Red Bull Academy di Abuja. Piacere. Ciao, du. Andiamo adesso invece avanti con Vincenzo Mistretta, classe 1998. 1999, lui è un centravanti della Maceratese. Ciao, piacere. E poi, per quanto riguarda i ragazzi presenti qui questa sera, abbiamo concluso. Ci sono poi quei ragazzi che, appunto, come vi preannunciavo poco fa, non sono riusciti a venire alla presentazione. Comunque c'è Nicolás Santoni, che è un centrocampista mezzala della San Maurese in Serie D. Lui è un classe 1997. Poi c'è Abdu Niang, un 2001, un attaccante esterno che invece è presente qui nella giovanile Rimini. Poi c'è Elia Foschi, classe 1998, un difensore centrale anche egli al Bellaria. E poi si conclude la rosa con Medun, Papa Secch, che invece è Secch Papa, anzi, che è un classe 1996 e una mezzala che proviene dalla Serie C della Germania. Questi sono i ragazzi e il mister Roberto Renzi che li accompagnerà in questo viaggio, ma ovviamente manca anche una parte della giovanile Rimini. Lui è il direttore sportivo e allora lo faccio venire qui a fianco a me, Nicola Montanari. Ciao Nicola, a te chiedo due parole perché comunque credo che tu abbia contribuito anche alla ricerca dei talenti. No, no, guarda, intanto buonasera a tutti. Sì, i talenti di Cerca Roberto con lo staff che solitamente lo aiuta a cercare di questi ragazzi, che noi ringraziamo anche di essere qui. E comunque sei pronto invece per affrontare questa avventura? Pronto è una parola grossa, vediamo, devo ancora parlare con i ragazzi? Sì, comunque sì, ormai sono sette anni che aiuto Roberto in questa avventura. Ora siamo pronti per le esperienze che abbiamo, speriamo di fare anche questa una bella esperienza. Va bene, allora grazie Nicola, ti faccio comodare anche te. Questa è la squadra che come vedete approderà tra qualche giorno a Barcellona, pronti per affrontare questo percorso. Vi ricordo comunque sempre che il reality lo seguirete su Icaro TV dalle 8.45 tutti i giorni dal 3 al 12 giugno. E quindi non potete mancare a questo appuntamento anche perché tra pochissimi giorni comincia la quarta edizione della Barcellona Professional Club. Domenico Petrocca, il preparatore atletico dei ragazzi. Allora come stai preparando i ragazzi a questa avventura? Sulla falsa riga dell'anno scorso praticamente. Abbiamo strutturato un po' di allenamenti specifici per quanto riguarda la nostra tournée. memore dell'esperienza dell'anno scorso dove fondamentale sarà arrivare in una condizione atletica abbastanza ottimale e fresca perché comunque lì incontreremo un clima torrido sotto proprio l'aspetto climatico. E quindi ci stiamo allenando anche nelle ore più calde della giornata per essere pronti ad affrontare le varie partite che andremo a fare appunto in Spagna. E bene o male stiamo lavorando molto sul potenziamento aerobico in modo tale da avere più resistenza possibile rispetto ai nostri avversari. Quindi ci dedichiamo più su questo lavoro specifico. E poi inoltre stiamo facendo delle simulazioni di cara dove ci permettono poi di affrontare al meglio le partite. che andiamo a incontrare anche perché comunque sono partite ravvicinati e la freschezza atletica deve essere importante altrimenti poi riesce a fare la prima partita e la seconda e già comincia a avere problemi. Quindi stiamo lavorando sullo specifico in modo tale da affrontare le partite in maniera ottimale. E invece per quanto riguarda l'esperienza dell'anno scorso, quest'anno rispetto a quanto punto prodotto l'anno scorso, cosa cerchi di migliorare? L'anno scorso diciamo che abbiamo fatto bene, anche se non abbiamo vinto il torneo, siamo arrivati i secondi perché abbiamo preso un gol praticamente all'ultimo secondo della partita. Quindi di migliorare c'è poco. È chiaro che comunque delle piccole accortezze le dobbiamo fare, quello è poco ma sicuro. Per quanto riguarda la situazione atletica direi che lavoro sulla stessa falseria dell'anno scorso perché comunque non abbiamo avuto problemi, la squadra ha affrontato le quattro gare in maniera perfetta quindi più o meno il programma rimane uguale, rimane intatto. Magari poi quando siamo lì, insieme al mister, insieme agli altri collaboratori cerchiamo di capire meglio le situazioni anche tramite alcuni strumenti che porterò, che sono dei GPS, che ci permettono di capire un attimino come i giocatori appunto stanno a livello proprio atletico e a livello fisico. A Zizze Niange, uno dei più giovani della giovanile Rimini, sei pronto per questa avventura? Sì, è la mia prima avventura e spero di arrivare lì e comunque dare il massimo. Come prima esperienza, spero sia positiva. E qual è il tuo obiettivo in questo torneo? Beh, il mio obiettivo principale comunque è giocare bene, poi il resto comunque viene da sé. Magari anche fare qualche gol e avere qualche soddisfazione in più. Andrea Renzi, per te un finale amaro ma dolce, potremmo dire col bell'aria, un epilogo triste, comunque un ultimo finale di stagione in cui ce l'avete messa tutta, quindi presumo ci sia una voglia perlomeno personale tua di riscatto. Sì, sono stati gli ultimi due mesi stupendi, peccato per l'ultima partita come è andata, però ho deciso di andare via anche quest'anno perché sicuramente ho bisogno di non pensarci, quindi lo faccio per questo. Qual è il tuo obiettivo? Il mio obiettivo è di tenermi allenato, di imparare anche dagli avversari con cui andremo a giocare, e quindi questo. Andrea Montanari, classe 1995, anche per te un'esperienza da bell'aria quest'anno, l'importante è che tu sia un centro avanti e che comunque faccia gol con la giovanile Rimini. Speriamo di sì, speriamo soprattutto di ripetere quanto viene fatto l'anno scorso e speriamo di far meglio addirittura. Quanti gol vuoi fare? Non c'è una cifra, l'importante è giocare bene, giocare per la squadra e chi segna segna. Quindi l'obiettivo comunque è vincere? L'obiettivo è vincere, sì, assolutamente. Tiam Serigni, il portiere di questa giovanile Rimini, le tue parate, le tue prodezze e comunque la tua altezza dovranno salvare la giovanile Rimini. Speriamo di sì. Hai qualche obiettivo personale per questo torneo? Quest'anno vogliamo vincere il torneo, io sono pronti per vincere il torneo, perché l'anno scorso non è stato, abbiamo perso il finale, quest'anno vogliamo proprio portare la cupo qua. Tu l'anno scorso hai partecipato quindi a questo torneo? Sì. Rispetto alla precedente edizione c'è qualcosa che vuoi migliorare a livello atletico? Certo, con l'aiuto del prof stiamo andando bene. Umar Diop, la tua esperienza classe 1991 servirà tanto a questa giovanile Rimini? Sicuramente, perché io ho giocato abbastanza a calcio in Italia, quindi già il calcio lo conosco molto bene, però l'esperienza in Spagna ancora non l'ho fatto mai, quindi giocare in Spagna è anche una bella esperienza che voglio andare a affrontare e poi vediamo che succede. Cosa ti aspetti da questo torneo? Un bel torneo, vorrei anche vincere perché non ci andiamo per fare una passeggiata, andiamo anche per giocare per vincere questo torneo, quindi speriamo di farcela, non sarà facile comunque, quindi speriamo di arrivarsi anche per fare molto bene anche per i ragazzi che sono più giovani, e magari farli accomodare questi bei posti là in Spagna con le squadre che sono molto importanti. Toplana, Claido, tra qualche giorno si parte? Questa è la mia prima esperienza in questo tipo di torneo e speriamo di fare bene e spero di fare bene e aiutare la mia squadra. Se dovessi dire una percentuale, quanta probabilità ha la giovanile Rimini di vincere? Probabilmente alta, perché se siamo preparati bene adesso vediamo. E quindi siete carichi per partire? Certo. Vincenzo Mistretta, fisicità e potenza, centro avanti, quanti gol vuoi fare in questo torneo? Spero tanti, spero di giocare bene e di mettermi in mostro. Spariamo una cifra, quanti ne vuoi fare? Non lo so, non è facile, è la prima volta che faccio questo torneo, quindi spero abbastanza. Vuoi arrivare in doppia cifra almeno? Sì, se viene, perché no? E invece per quanto riguarda, dato che è la tua prima esperienza, c'è qualcosa che ti aspetti in particolare? Spero di giocare bene, di fare delle belle prestazioni e poi si vedrà. Altro attancante, molto giovane, Gueye, per te una prima esperienza in questo torneo, cosa ti aspetti? Mi aspetto di fare bene, di allenare bene e cercare di dare fiducia a Roberto che mi ha chiamato per fare questo torneo. Dato che sei un centro avanti, la domanda viene da sola, no? Quanti gol vuoi fare? Spero di fare bene e fare tanti. Quindi l'obiettivo personale comunque è fare bene? Fare bene è quello, sicuramente è quello che è più importante. Marvel e Odiki, per te la prima esperienza in questo torneo, cosa ti aspetti per questo torneo? Ho chiesto qual è la sua aspettativa per questo torneo. È una bella esperienza, spero di fare bene e di divertirmi. Qual è il tuo obiettivo principale in questo torneo? Il mio obiettivo è vincere il torneo, fare bene con la mia squadra, rendere felici tutti quelli che sono del team e comunque fare delle buone prestazioni. Arnold Aidini, classe 1996, pronto per questo torneo? Prontissimo. Con il prof siamo allenati bene, lavoro mirato e daremo il massimo. Quanto voglia c'è di vincere questo torneo? Tanta, perché comunque sia un torneo dove ti metti in mostra, c'è visibilità e uno ce la mette tutta. Dato che è la tua prima esperienza, cosa ti aspetti da questo torneo? Di fare un passo in più rispetto all'anno scorso, arrivare ai primi. Siker Arcadio, per te l'anno scorso hai raggiunto molto esperienza per questo torneo. Qual è il tuo obiettivo, dato che comunque hai partecipato anche l'anno scorso a questo torneo? L'anno scorso è stata una bella esperienza, eravamo un team molto forte che ha fatto molto bene. Quest'anno speriamo di fare ancora meglio. Il mio obiettivo è fare circa 5 gol e se lo farò sarò contento.